Tavolo di lavoro è mercoledì, anche la giornata di oggi, esattamente come quella di ieri, dedicata più a guardare gli altri, gli avversari, in Champions League che il Milan, ma questo lo sapevamo già. Quello che invece di importante è accaduto ieri sera è stato a Napoli, perché per chi conosce la storia del Milan, per chi conosce la vicinanza, il mondo di affetti e di complicità e di grandissimo e vero affetto che esiste fra Carlo Ancelotti e che è sempre esistito e che sempre esisterà fra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso non può non fare effetto, quello che è accaduto a Napoli. Intanto viene confermata con questa acquisizione da parte del Napoli, che in ogni caso fa parte delle prime 16 squadre d'Europa e certamente Rino Gattuso quando giocherà l'andata degli ottavi di finale ringrazierà Carlo Ancelotti perché è una qualificazione che ha ottenuto lui, il fatto di essere in una squadra che fa gli ottavi di Champions League è la conferma di quello che abbiamo sempre sostenuto. Negli ultimi anni, senza voler dire male, mancherebbe altro di alcuni monumenti, di alcuni padri della patria assoluti come Clarence Edor, come Filippo Inzaghi, come lo stesso Cristian Brocchi, però Rino Gattuso ha dimostrato nell'era degli ex giocatori del Milan che diventavano allenatori senza voler togliere nulla a nessun altro di avere qualcosa in più. Tant'è che Rino Gattuso è rimasto di categoria una volta lasciato il Milan. Oggi in classifica e in campionato il Napoli ha un solo punto più del Milan perché è andato in crisi, ma il Napoli fa la Champions League ormai da tanti anni con regolarità. Gli stessi Sedor, Finzaghi e Brocchi invece hanno dovuto ripartire dopo il Milan facendo altre esperienze perché questo è stato un giudizio che ha dato il calcio, non il singolo cronista o la singola persona. Rino Gattuso quindi riparte dall'alto, ne siamo felicissimi per Rino che se lo merita, avrà la possibilità di dimostrare col Napoli che è in grado di fare diversi tipi di calcio, cioè che il calcio che faceva col Milan non era un calcio difensivo perché o un calcio di protezione perché lui è un difensivista, era un calcio nella testa di Rino Gattuso adatto alle caratteristiche della squadra che aveva, della quale conosceva i pregi e i difetti, della quale viveva sulla propria pelle i momenti di alta e i momenti di bassa, le cose buone e i limiti e quindi aveva valutato che quel tipo di schieramento poteva essere utile alla squadra rossonera. La rosa del Napoli ha caratteristiche diverse e sono convinto che Rino Gattuso a Napoli farà un altro tipo di calcio perché ha a disposizione un altro tipo di squadra, come è giusto e legittimo fare nel calcio moderno. Carlo Ancelotti, io personalmente avevo fatto una figuraccia, non era la prima e non sarà l'ultima, vivendo sempre con un microfono in mano capita e bisogna avere la pelle dura come i portieri dopo un errore. Avevo fatto una figuraccia nell'estate del 2018, avevo appena ricevuto la notizia che Carlo Ancelotti, che poi non era vera ma l'avevo ricevuta da fonte importante, che Carlo Ancelotti non sarebbe andato a Napoli e lo scrissi subito. Ma lo scrissi subito non solo perché avevo ricevuto la notizia ma perché mi sembrava innaturale come matrimonio, come joint quella fra un uomo come Aurelio De Laurenti e un uomo come Carlo Ancelotti. È vero che Carlo Ancelotti è duttile, è vero che Carlo Ancelotti sa essere adatto ad ogni esigenza, ha lavorato con presidenti di vario tipo, di varia natura e di vario carattere. Però quella che era una previsione sbagliata dal punto di vista cronistico si è rivelata sostanzialmente esatta da quello concettuale. Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurenti, pur con i nobili principi per i quali Carlo è andato a Napoli, non potevano resistere a lungo e non hanno infatti resistito. Carlo Ancelotti in ogni caso ha consentito in due partite al Liverpool contro di lui, al Liverpool campione d'Europa e dominatore della Premier League contro di lui di fare solo un punto e si conferma all'enatore che nei momenti di grande calcio, nei momenti cruciali della stagione ad alto livello c'è sempre e quindi questa sua caratteristica è rimasta intatta. È chiaro che il passaggio per chi si ricorda l'esultanza di Rino Gattuso con Carlo Ancelotti dopo Milana X3-2, per chi si ricorda l'esultanza di Rino Gattuso con Carlo Ancelotti dopo Milana Manchester United 3-0 la parita perfetta del 2007, questo passaggio di consegne non può non fare effetto. Questo è quello che abbiamo provato nella serata di ieri, che ho provato nella serata di ieri e quello che provo a raccontare oggi. Mi fa sorridere invece in tv, diciamo la difesa in tv e anche sui social, la difesa preventiva da parte dei tifosi dell'Inter rispetto ai milanisti. Ah ma cosa volete voi che fate un altro campionato? Ah ma cosa volete voi che perdete i derby? Io ho guardato la partita dell'Inter contro il Barcellona ieri in maniera per chi ci vuol credere ci crede, per chi non ci vuol credere fa lo stesso in maniera assolutamente laica, perché comunque l'Inter resta capolista in campionato e finché il Milan non torna in Champions League non mi va di fare quello che guarda in casa da altri. Oggi è fondamentale per il Milan, per i milanisti e per chi ama il Milan guardare solo ed esclusivamente in casa propria. La classifica è ancora bruttissima per cui bisogna guardare solo ed esclusivamente in casa propria. Mi fa sorridere, non so se è coda di paglia, non so se è critica preventiva, non so se sui social qualche milanista invece sfotte o dileggia. Leggevo da qualche parte inter in 9 contro 11 contro il Milan, il divario più grande mai esistito nel 2009-2010 fra i due squadri di Milano. Prendetevi il Milan-Inter dell'87-88 e poi ditemi se non passare la metà campo per 90 minuti è qualcosa che può essere comparato. Però credo che al netto di tutto l'Inter stia facendo una grande stagione, Antonio Conte sta facendo una grande stagione indipendentemente da quello che è accaduto ieri, senza a tutti i costi far passare il Barcellona di ieri, che era un Barcellona veramente di seconde linee e l'Inter al meglio, l'Inter dei titolari l'avrebbe battuta, la squadra catalana di ieri. Invece l'Inter con la rosa un po' corta e lo dice il suo allenatore non suma e con gli infortuni ha fatto fatica contro la Roma al netto delle occasioni create e sempre al netto delle occasioni create ha fatto fatica contro il Barcellona delle seconde linee. Resto dell'idea che l'Inter con i suoi titolari, con la miglior formazione avrebbe potuto battere il Barcellona di ieri, poi fosse stato il Barcellona dei titolarissimi con il Barcellona non ancora qualificato, no, ma il Barcellona delle seconde linee già qualificato, l'Inter con la sua miglior formazione e senza il carico di partite sempre sulle stesse gambe, sempre sugli stessi uomini, il Barcellona avrebbe battuto. Non è andata così ma i milanisti non c'entra niente, non ci si rifà su chi è indietro in classifica, ricordo bene tanti anni in cui il Milan era al top in Europa e nel mondo perdeva le finali e l'Inter che era di interisti che era indietro in classifica sfottevano. Se c'è qualche milanista che sfotte fa parte del gioco, però poi si parla di calcio, si parla delle cose serie e non c'entra niente di mancare il 2009 o il 2010 o il fatto che il Milan fa un altro campionato come qualche finto opinionista equilibrato dice nelle tv per venire fuori dall'angolo di una eliminazione, a parte che l'Inter non è in nessun angolo, l'Inter è capolista del campionato italiano di serie A e sono convinto che abbia ottime possibilità non soltanto di lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata ma anche di vincerlo e quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla e al di là di qualche sfotto al quale bisogna saper reagire in maniera equilibrata francamente non c'è altro. Nel giorno dopo e per noi questo resta il giorno dopo l'esonero di Carlo, il giorno dopo l'acquisizione di Rino da parte del Napoli. Un po' il Napoli per Carlo Ancelotti, già per il Napoli facevamo il tifo e adesso che c'è Rino ci tocca evidentemente andare avanti sulla stessa linea. Guardare e sostenere i grandi personaggi che hanno sempre il Milan nel cuore, che hanno sempre il Milan nell'anima come Ancelotti e Gattuso è una buona cosa ma guardare in questo momento francamente in casa dell'Inter noi vogliamo tornare a vivere di sfotto e battute e frecciate con i rivali quando evidentemente ci sarà lo sviluppo per cui la proprietà e la dirigenza stanno lavorando per essere nuovamente competitivi. Quando si è dentro fasce diverse, dentro zone diverse di competizioni e di sfide si guarda in casa propria e oggi io personalmente guardo solo esclusivamente in casa mia tenendo conto del fatto che l'eliminazione dell'Inter in Champions League nulla sposta rispetto al grande lavoro che sta facendo Antonio Conte. Su questo non c'è dubbio così come sui social se c'è qualche botta e risposta non bisogna fare quelli che siccome c'è un divario non si sfotte, le regole non le stabilisce una tifoseria rispetto all'altra. Ripeto, in tanti anni di gloria europea e mondiale del Milan chi era dietro in città sfotteva per le sconfitte del Milan. Bisogna le cose che si fanno saperle anche accettare. Credo che questa sia una regola di ingaggio quanto mai giusta e opportuna. Per il resto un abbraccione forte a Carlo Ancelotti che è l'unica cosa che conta e l'altra cosa che conta, quindi non era l'unica, un grande, grande, caro, forte, in bocca al lupo a Rino Gattuso.